ecco l'etegence che a qualche giorno esce monia che è una bella bronchite vero monia bella bronchitella qui c'è circe che anche lei da qualche giorno esce qui abbiamo pippo che era stato morto sotto il collo vediamo se si vede se collo pippo sta facendo un antibiotico qui c'è d'oro qui c'è fiorino che è stato chiuso oggi qui c'è axel vero axelino qui c'è diletta che è stata anche la ripresa oggi vero diletta e qui c'è swan che anche lui un altro paio di giorni riesce grazie